DARK SAUSS REMASTERED 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 che c'è là dietro io ho appena ucciso chi avevo in mente di farle uccidere a lei io sto facendo cose lei faccia cosa parlo con lui che voce gli ha messo è il serpente primordiale Frampt il cercatore di re amico e stretto del grande Lord Gwyn però è noioso mentre parla il figlio di di Fdor il figlio di Khmer va bene in modo a vincolare ok ragazzi c'è nel senso però parla un pelo pianino mi sta venendo la coccola a me non ti muovere e chi si muove? ma è scemo cosa sta facendo ma mi mangia come ti mangia? mi ha mangiato ah si ma è deficiente è un scemo pazzo ah ma mi ha risputato e se non la risputava erano problemi questa è la camera del legame del fuoco per i successori di Lord Gwyn ok ma se io volessi ritornare su? se tu devi andare ancora da lui ok e quindi cosa facciamo io e te ragazzo bello allora 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 ascoltami sto andando verso il tronco fermi tutti io sono appena andato dove in teoria volevo farti venire ma qui non mi puoi evocare ok però ci devi venire per forza ok ora questo episodio probabilmente diventerà un giba aiutami ok allora tu per caso hai visto come andare dentro il nido di del di poppo no al santuario del ok perfetto cioè siamo a cavallo dal santuario del fuoco c'è un ascensore che ti riporta da André ma aspetta un attimo io devo tornare su non devo andare dove cioè non devo andare a posizionare il gettacolo no se vuoi riposare se vuoi intanto posizionalo e non succedano cose non succede niente perché non hai le anime da metterci dentro ah ok le anime dei grandi lord ok ah questo qua è per il finale si dietro quella porta c'è non lo so io non ho mai visto alla fine di questo gioco quindi non spoilerarmelo vada mi ascolti e aspetti che sto guardando una cazzin fotonica c'è tipo un beacon intanto lei adesso dovrebbe vedere cose che si aprono si non me le ricorderò mai lo sapete e cosa sarebbero queste cose che si aprono sono aree nuove sbloccate figo tra cui quello del posso riposare al ricettacolo certo si potrebbe riteletrasportare anche da lì allora ok quindi mi teletrasporto a santuario del fuoco ok quindi teletrasportiamoci di corsa a santuario del fuoco se vuoi fare un altro viaggio no mi fa schifo tutta bella saliva lì no direi di no direi di no direi che puoi bastare così perfetto allora adesso sono respawnato qua c'è ancora il mio amico Sigurd allora ti ricordi che tipo 5 minuti fa hai visto 3 tipi si uccidili ok no no torno dei 3 tipi eh no veramente non ci sono più ok perché perché sono andati in un altro posto e beh se non sono più qua sono da un'altra parte grazie al capo scusa eh dietro dietro a quei tipi lì c'è un ascensore si lo prendo lo prendi però non arrivi fino alla fine perché più o meno appena partito con l'ascensore ci sarà un posto dove puoi rollare capito no al solito si si lo so il problema è che io sono già su ormai però adesso riandiamo e beh ma tra l'altro prima mica prendevo l'altro di è uguale di ascensore ah ma adesso me li ha aperti tutte e due sale uno scende l'altro ok sono andato in quel posto che mi dicevi ok vado a destra vai a destra non mi fa andare a destra si adesso si c'è uno spiazzo giusto no no scusa io sono saltato c'è uno spiazzo ci sono andato sopra ok ok allora tu dovresti andare a destra dove c'è dell'erba si no ho già capito cosa vuoi farmi fare vedi che casualmente c'è una strada che scende giù si una strada che va verso il corvolo lo vedo bravo tu devi saltare sopra lì si ciao ecco non ci sono saltato mai nella vita ah bastava la rollata ecco bene devo riportare tutto da capo vabbè intanto che sei lì giù ci sono dei bauli apri eh li ho già presi ok e adesso muoio male perché ho capito dove siamo no lascia vabbè basta che corro poi nel senso poi non dovrebbero essere più così tanto forti no tecnicamente se merita ok si adesso ho risciotto ok quindi adesso devo ritornare là indietro giusto immagino bravo intanto io sto mangiando delle ottime skittles ma qua c'è un altro corvo ne approfittiamo no è sempre quello se l'ho visto da un'altra prospettiva anche io approfitterei del momento per dire signor franco skittles se ci può mandare una confezione per un anno per un anno cioè ogni giorno arriva una confezione a casa buonissima di solito ne vuoi di più ti basta una confezione al giorno buona buonissima bravo franco skittles ok sto riandando di là e io non ce la farò mai nella vita sono sicuro ma perché non mi rolla sto figlio della merda non mi rolla sto infame dai che facile no porco cane adesso dovrevo mandare ancora super avanti super veloce finché non ce la faccio ovviamente perché sennò qua è un bordello allora è presente gli MMS ah ho capito quali sono niente si solo che a posto della S c'è una a posto della M c'è la S oh la ce l'ho fatta bravo ye allora adesso con calma e passimonia sali si passi dentro un arco si a sinistra ci sarà una scala la prendo prendi la scala l'ho presa arriva fino in fondo e c'è un loot ah no devo salire ancora e ora quanto devo salire per oh sono nel nido posso ranicchiarmi? fermo mi sono ranicchiato ormai mi alzo mi ranicchio il loot che hai visto là sopra eh ti serve solo per aprire una porta per andare a recuperare un anello che non mi serve quindi fa niente che è l'anello di ferro arrugginito che non serve a nulla che in alcune zone può aiutare si però nel senso se io mi ranicchio qua cosa succede? ranicchiati e sono ranicchiato sembro nuovo rimanici non succede nulla mi faccio una svapata rimanici 10 anni dopo oh cazzini arriva il corvo a prendermi spero ok si e dove mi porta? vola finalmente vedo una muraglia ha fatto un rallenty bellissimo e no ora non mi viene in mente si che ti viene in mente no aspetta rifugio dei non si ricorda dov'è? eh più o meno mi dice qualcosa è qui il rifugio dei non morti? è dove dove ha cominciato signor Sprofogamer pronto? è quello intendevo è quello allora il rifugio dei non morti da quando è andato via la prima volta è cambiato si non è più il rifugio di una volta eh non ci sono più i rifugi di una volta ecco allora adesso scenda le scale scenda scenda ci saranno 4 tipi armati che sono morti forze ok stia attenzione perché sembrano delle merde ma se la prendono gli fanno male no no sono morti già ok allora là ce n'è un altro sì là c'è la porticina fermo sì sono fermo allora c'è la porta giusto? dove sono scappato la prima volta per non incontrare il rotto bestione rimani sull'uscio della porta e adesso devo fare una domanda sì leggo il messaggio attenzione caduta vuoi rifare il boss e recuperare un'umanità una lastra di titanite e un osso di ritorno e delle anime oppure vuoi evitare di fare quel boss ma qual è che è quello ciccione sì potrei provare a rifarlo però non è il ciccione di prima non ci sono più ciccione di una volta infatti non ci sono più ciccione di una volta è un po' più cazzuto ok no vabbè lo rifaccio prima di darmi una risposta me lo deve dire lo vuole fare o no? sì allora entri piano e tenga tutta tutta destra passi in mezzo ai ai vasi ai vasi e vado all'altra parte dove c'è il faleo ok si siede al faleo sì mi sono seduto si è propinquato ok ora ritorni dentro e vado in mezzo alla stanza ma se io riavvivassi la fiamma visto che c'ho 60 più 7 sì lo farai forse in lei lo farai tanto a questa umanità perché tanto secondo me lei ci muore male 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 dice quindi adesso posso andare in centro a questa stanza allora adesso vado in centro a questa stanza e auguri ok si tengono a pescata portati di mano subito perché mi tolgono della vita bastardi dov'è che è eccolo mi ha ucciso come ti ha ucciso? io non lo trovavo era alle mie spalle e mi ha ucciso cioè non l'hai neanche visto l'ho visto mentre giravo la telecamera quando sono morto mi ha bisciottato malissimo io perché sto riposando davanti al volo adesso faccio una cosa adesso è una questione di principio sì quindi io adesso starò qui starò qua finché non non la uccido ok quindi adesso io direi che posso andare no erano solo due gli stronzi sì sì ok quindi adesso andiamo a uccidere questo stronzo vada bella madonna ma cosa fa ma esplode anche lo stronzo io l'ho dato che non è più mi ha ucciso un'altra volta vale ma non è più come una volta davvero eh ma io secondo me dico le cagate è molto più forte e non posso evocare nessuno qua no no lo devo fare con le mie manine oh sì e quindi sarà una merda solo come come io ho appena fatto tanto che lei parlava con le persone ma perché non rolli ma mi ha ucciso ancora ma se io stessi sotto ma perché mi prende comunque questo figlio di puttana vada smafogamer è un momento di coraggio o del formaggio anche che mi vuole e porco eh no eh ma come è possibile che mi prenda in culo addio però mi vaffanculo allora voi due venite qua che mi avete già rotto il cazzo non posso più già devo pensare a quello lì non è che puoi rompermi cazzo anche te dai sto famica a pettinare le bambole adesso pian pianino imparo il moveset pian pian pianino lo batto a costo di fare un episodio lungo sei ore tutto velocizzato tutto velocizzato e subito esplodi figlio di puttana vabbè la mia traccia audio non ci sarà e va di p***o mi sto perdendo la mia pazienza non so se si è notato no muori figlio della M oh la oh la come sei morto bene mi piace così raccogli oggetto lastra di titanite perfetto direi molto andiamo a prenderci queste nostre zero anime yeee 242 anime mi hai dato sto stronzo io ho buttato la mia vita però mi ha tornato una lastra di titanite con 242 anime ah no 20.000 ok ok 20.484 infatti mi sembra cioè stavo già smadonnando in in aramaico antico come faccio ad uscire da qua io allora c'è una scala di dentro ehm no si ah si trovata si dico che c'è una scala c'è una scala ma che cazzarola ne so io io non la vedevo mi dessica ehm no qua io ormai ho capito dopo la città infame che le scale dove ci sono le torce bravissimo quindi esco dalla scala ah spero c'è un cavaliere c'è un cavaliere nero lo ammazzi ehi se vado ok via ehm mi ha tolto la stamina scambio di colpi ma ho vinto io bastardo pezzo di titanita rossa ok ok vada dietro dove dove il cavaliere proteggeva qualcosa una cella ma sono io sono io da giovane bambola insolita ah è quella bambola famosa che ci serviva per entrare nel dipinto bravissimo spicy qua c'è una cella che non posso aprire no adesso torni torni al faleo ah posso tornare al faleo da qua torni al faleo così l'osso di ritorno che facciamo prima perché se no qua dove sono faccio prima fargli fare così spiegagli che la strada mi credo se no qua dove sono io non capisco dove sono dovere l'inizio ah sono le fogne ah non c'è le fogne è la stessa è la stessa zona dell'inizio non è cambiata di una virgola è cambiato solo chi abita questa zona vabbè se non lo farò senza usare l'osso di ritorno tra l'altro meraviglio di lei allora lei guardi la porta guardi la porta dove c'era il boss si la chiudo però giri giri a destra c'è una porta è aperta o è chiusa è aperta ok entri nella porta aperta sagga le scale tom tom jiba sagga le scale ho salito le scale e c'è dove c'è un buco dove c'era figlio della merda perché mi attacca è diventato vuoto è diventato vuoto si è svuotato l'ho ucciso ma io non volevo le sue cose che capitano scudo cimiero ok ma mi dispiace ho scuotato guardando il buco eh eh ok giri a destra guardando il buco si stavo già stavo andando ok ma è cambiato c'è c'è una non ascolti dica c'è una porta c'è un ingresso dove al buco a destra allora io sono dove allora sono dove c'è il buco devo entrarci nel buco no prima del buco a destra ok sono andato a destra c'è una svolta a sinistra e c'è una porticina ok oh bravo si insinui mi sono insinuato ecco si insinui e scendo alle scale le ho scese sono passato attraverso una po sei un bastardo sei un bastardo potevi dirmelo e cosa c'è tua sorella c'è la reazione quella è bella e la madonna tutto sto casino ma perché non riesco a farti un cacchio di di oh morto pezzo di titanite rossa come se piovesse quindi fammi curare che tu sei un merda vieni avanti scendi no no adesso vado piano col cazzo che vieni avanti scendi scendi easy si scendi easy c'è dell'acquetta eh scendi easy scendi easy passa dentro la porta gira a destra e c'è un falò che è il solito più o meno è sempre lui eh si ok non è lui non è lui mai ma c'era già l'ho acceso perché l'ho acceso la prima volta che sei venuto ma scusa ma ero già qua prima mi hai fatto fare tutto il giro della vita non è lo stesso pronto ma puoi scambiare due falò che non c'entrano un cazzo uno con l'altro ma se ero dove c'era il buco perché ah perché tu mi hai fatto fare quel giro lì per incontrare lui e uccidere bravo bravo ok mi teletrasporto dove a non l'ondo a non l'ondo ok ma io vorrei recuperare i carboni tutte quelle cose lì da donare ai nostri amici fabbri eh ma infatti c'è un'altra tipa cioè c'è un'altra siamo ancora dove c'è la è sempre lei allora poi sto parlando con la tipa del fuoco dai che ti faccio arrivare in un posto e siamo a posto ok dove mi fa arrivare dottore sei spawnato là sì sì sono già dove ci sono le due camere esci dritto per dritto vai all'ascensore sì ascensorizzati non ancora direi quando si può ascensorizzare se ascensorizzi ok mi sto ascensorizzando proprio now adesso tecnicamente dovrebbe andare giù piano piano questo qua sarà un episodio molto shallow nel quale io svapo anche mentre mentre gioco così di solito non lo faccio mai shallow non direi visto le cose che ha detto prima ovvero che non si sentiranno quelle cose che ho detto mentre cercavo di battere il boss non si sentiranno mai la luce no no magari su facebook pubblico il video pubblico solo la traccia audio ecco allora corra sto già correndo dove c'era il gargoyle corra sono arrivato alla torre che sale e scende scendo le scale ok immaginavo mi stai facendo arrivare al al coso vero vero al dipinto al dipinto di ariamis così spoileriamo già il prossimo episodio bravo ecco vada entri ci saranno ancora tutti i brutti certi ma ma li dovrà uccidere ah ok quindi li uccida easy se non mi uccidono prima loro vuole figlio di puttana vada confido in lei io credo in lei nel cuore mio hanno avuto una rota ahah eh mi uccideranno malissimo credo no non può farci uccidere liberamente eh sono a me due segni come fa malere le ho sottovalutati tantissimo ah sei morto veramente no mi sto preoccupando venite venite qua venite qua ok lei venga nooo ho fatto la fonda l'ho un po' ucciso ok mi sa che me ne manca uno eh dovrebbe mancarmene uno coltello da lancio ok tecnicamente dovrebbe essere l'ultimo l'infame qua da quello che beh non si fa fare i best l'infame ok però questo trovo il calcetto gliel'ho dato gliel'ho dato il calcetto io mi curo così per non sapermi leggere e scrivere quello che fa malissimo si no questo qua gliel'ho dato nelle parti basse credo quello qua già ho fatto tutto e che fa ancora più male adesso io posso andare qua esamina lo esamino lo esaminiamo esamini 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 faccia CSI a Norlondo ok CSI a Norlondo per andare in un altro posto c'è un ponte tira fuori la bambolina no non è non c'è stato bisogno di tirar fuori la bambolina ci risucchio ci risucchio ci sta risucchiando ma sono su un ponte io direi che indietro non posso andare così vabbè così eh la buttò di così siamo in mezzo alla neve meno male magari più che meno male il problema adesso sarà trovare un falo qua vado avanti sto andando avanti sto andando sto andando avanti io persevero ah c'è già il falo figo lo accendiamo pure e io direi che volendo potrei anche offrirgli un'umanità così per non saperne leggere né scrivere o no? ma io forse lei almeno almeno a P10 la porterei infatti infatti quello intendevo quello intendevo ma visto che devo trovare qualcuno con cui fare l'altro perché io faccio sempre l'altro con qualcuno mi sa che ne avevo visto uno qua giù molto simpatico con uno chi? anzi con tre stavolta faccio l'altro c'è nel senso e si faccio un altro con tre persone direi che per oggi può bastare no? lei cosa mi dice? ma io non non le ho dato una mano però nel senso si può anche bastare così lei mi ha fatto questo qua è stato un episodio di transizione molto shallow per andare avanti per far vedere cose che altrimenti avremmo tagliato malamente visto l'episodio brutale di Anor Londo direi che questo qui è molto più shallow e tranquillo direi che può anche bastare così può anche bastare quindi ragazzi come al solito i nostri link li trovate in basso in descrizione instagram un giorno forse mi ricorderò di lasciarvelo sotto in descrizione il canale di Giba invece sicuramente ci sarà e quindi se questo episodio cazzeggia un po' così shallow abbiamo parlato un pochino vi è piaciuto lasciate un bel like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima bella ciao ragazza ciao 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 ciao